Non è aperto! Se si cade qua sopra e si smacchia tutto voglio vedere... Ciao Etrini! Ciao! Dall'esterno è venuto il saluto, adesso tra un po' giro la telecamera perché... Non lo dirai qua! Non mi fanno fare l'inizio... E' la non rispondere! Non lo dirai qua, è qua! Allora, intanto io vi dico sottovoce bentornati alla nuova puntata della E di Academy nel Tempio di Etra, via Virginia 31, Furio Camillo 00181, Roma! Lavora! Si stanno prendendo a botte? Lavora! Allora c'è un sacco di ansia perché venerdì 18... Ecco... Non lo dirai! Intanto continuano a litigare perché appunto vi stavo dicendo che venerdì 18 c'è lo spettacolo tutto in un giorno al teatro Furio Camillo e stiamo preparando, stiamo in realtà la scenografa, la nostra signora Elena, 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 Elena Stassunni... Insieme all'aiuto scenografo Oswe... Cos'è la posta Tarnande? Stanno preparando un pezzo di scenografia. Lavori in corso, stanno facendo la finestra di tutto in un giorno. Lo spettacolo del 18, vi aspettiamo venerdì 18 alle ore 21! No, quello no! Vediamo Oswe alle prese con la vittù! No, che vittù! No, che vittù! No, che vittù! No, che vittù! Lasciamo i lavoratori, la scenografa e l'aiuto scenografa al loro lavoro, a parlare, a mangiare! Noi invece andiamo a fare delle commissioni esterne che servono per lo spettacolo, ossia... E niente, quindi vi aspettiamo tutti quanti venerdì 18 maggio alle ore 21 al teatro Furio Camillo... In via Camilla 44! Con lo spettacolo... Tutto in un giorno! Allora, aspetta! Ho una buona tante sorte! E tante belle cose! Ciao! 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 Grazie a tutti